la famiglia di luigi tenco ha accusato barbara palombelli di aver diffuso notizie false e di avere banalizzato un fatto grave come la morte del cantautore davanti a milioni di spettatori durante il suo discorso all'ultimo festival di sanremo ad appoggiare le critiche della famiglia ci sono i consiglieri di amministrazione rai rita borioni e riccardo lagana barbara palombelli si difende affermando di aver citato una sua intervista a gino paoli che ha ripetuto le stesse parole in diverse occasioni